Terra mia, terra mia, com'è bella la guarda Fammi vedere se l'uomo di eccellenza nolana ha detto sì E Feli, allora i pomodori mi li metti su questa carriola, hai capito? Eh, grazie, oh mi raccomando, c'è molta, molta, eh, questo è oro Ma stai riprendendo? Buongiorno, finalmente realizzo il mio sogno Sto in tutta questa, vedete l'erba, lo sapete perché c'è tutta questa erba Perché non ci sono i diserbanti, la prima cosa E poi sto realizzando il mio sogno Sono venuto direttamente nelle terre qua, a eccellenza nolana A scegliere il mio pomodoro Perché i miei clienti nella pizzeria devono sapere che io vengo nelle terre E vengo a scegliere il pomodoro San Marzano Qualsiasi persona può venire qua e se lo viene a scegliere il pomodoro Tra qualche minuto vedrete come questo pomodoro viene trasformato E viene messo nel barattolo assieme al succo di pomodoro di San Marzano Perché questa è una cosa molto importante e molto interessante Avere un San Marzano top nel succo di San Marzano Io nel frattempo mi vado a controllare un po' di fatto mio Perché tutti i pomodoro devono essere precisi e perfetti Questo è sempre il pomodoro che abbiamo colto prima Nelle nostre terre di eccellenza nolane Controllare i pomodoro uno per uno Siamo quasi alla fine Stiamo facendo l'iscatolamento Come voi potete vedere Dalla filiera Veramente dalla filiera corta Siamo arrivati all'iscatolamento E adesso vi porto a vedere Il succo di San Marzano Quello che io prima dicevo Di avere un succo originale di San Marzano Venite con me Eccezionale Con i due vetrini Possiamo vedere scoriazioni zero E con questa grana super Noi abbiamo selezionato il massimo del prodotto Qui da eccellenze nolane Io me ne devo scappare in pizzeria Devo andare a fare le pizze Anzi, tante pizze con San Marzano Ci vediamo alla prossima